Siamo qua in quella che era Piazza Savona, oggi Piazza Michele Pietro Ferrero ed è una piazza in cui si vive l'evoluzione della città di Alba. Questa è la Piazza dell'Albesità, così come lo è l'altra piazza, perché in questa via che è via maestra e che raggiunge poi Piazza del Duomo noi abbiamo un altro pezzo della nostra albesità, che se voi pensate bene rappresenta un po' quella che è l'anima di noi albesi, di noi langhetti. Un'anima che è quella di Piazza del Duomo, che è quella delle istituzioni, dove c'è la chiesa, dove c'è il comune e quella piazza non si tocca, quella piazza era così 500 anni fa e sarà così 500 anni fa. E poi c'è Piazza Savona, che invece è la piazza che cambia, è la piazza che rappresenta più l'anima imprenditoriale, commerciale, dinamica, anche festaiola di noi langhetti e di noi albesi. E quindi oggi celebriamo un ulteriore passaggio storico di questa piazza, che cambia nuovamente volto, lo cambia peraltro grazie alla famiglia Ferrero, lo cambia grazie al ricordo e alla celebrazione di Michele Pietro Ferrero, perché ogni intervento deve essere figlio del proprio tempo. E io credo che stasera dobbiamo davvero prendere da questa serata, da questa piazza, la forza, la determinazione, la speranza, ma anche la consapevolezza, che noi abbiamo come albesi, ma come cittadini italiani, la capacità di superare anche questo momento difficile che la mita ci mette davanti. Abbiamo una notizia straordinaria perché inizia oggi una settimana, perché è una settimana di momenti importanti, ma venerdì 7 avremo ad Alba il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono molto contento perché è un invito che ho rivolto io personalmente insieme al Sindaco di Alba. Il Presidente Mattarella sarà da noi, sarà con noi per le celebrazioni dei cento anni del centenario di Fenoglio, del bicentenario di Michele Coppino, altri due grandi albesi illustri, ma anche per l'apertura della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. E farlo con Mattarella, che è persona a cui non soltanto io voglio bene sotto un profilo personale, ma è un uomo di grande equilibrio, di grande garanzia e di grande speranza per il futuro, credo che davvero sia il modo migliore per partire col piede giusto con quest'autunno in questa grande città.